Se volete acquistare crediti FIFA a basso prezzo andate su FIFAUltimateTeamCoins.com E con il codice GRAN avrete il 5% di sconto Bella vecchi dramali, sono i granassi, sono i granassi, io non ho la notte di gioco one E speriamo che oggi riscattiamo la partita Porco Di f***e Vabbè dai su, a parte quello A parte Agumero, Eif Vabbè dai, comunque Naldo non è forte su Dai, che cazzo Cosa così va in difesa? Non l'ho visto Porca puttana, ma quando passi Vabbè dai, tu ce la metteremo tutta, dai i vecchi dramani eh Dai Timbrocchio È un po' che lunga, dai, lo stiamo occupati Sei ti Oh Eh? Fischero per i parli Immobile Immobile Ricore Cazzo Corco dici Tu ti rendi conto che da quando abbiamo iniziato a tutti i giorni non ho mai dato un ricorda Nusa Cazzo Si Quello Dobbano Ehm Si Avevo vanno Cazzo un gioco se cazzo del giro in un incontro un buon lavoro o mezzo a due un segno questo taglio pediglia la vita la sempre cazzo mamma mia la moglie con il nome vabbè c'è il mobile c'è il mobile olé 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 3 a 0 crucianti 3 a 0 crucianti 3 a 0 crucianti 3 a 0 mamma mia olé scontato con me no perchè mi ha dato quadrato l'ho fatto una volta in basso non lo lasciavo no 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 sempre rigore vabbè a destra se mi ascolti a destra ma mi pare che tutte le volte mi sono buttato a destra e ho sempre segnato e poi già a volte mi sono buttato a sinistra e mi sono buttato a destra come la mettiamo è che una volta mi sono buttato a sinistra io segnato per me e se non mi sono buttato a sinistra che t'ho detto che t'ho detto come lui ti fomentia ce la vogliamo dire tutta no ma quale strada stai? è la mezza centrale no perchè ste cosi? perchè porca puttana? c'avi tutto il tempo guarda vabbè tranquillo 3 a 0 se non ancora fa solo giallo solo giallo lo sapevo che ho dato qua sta e porca troia stavi troppo tipo spalla alla porta capito quindi era inutile proprio il passaggio ma da vaffanculo ma perchè? ha paura del pallone Robbe lo sapevo che si metteva in mezzo lo sapevo è meglio giocare di esce ero poco convinto carcola no le vandoschi per le vandoschi vabbè che fa lui? oh 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 ma vaffanculo sei messo in mezzo il portiere da posto si perchè mi ha lanciato prima di questo segnale stavo davanti no? infatti è rosso questo perchè mi ha preso poco senza motivo no c'ho tutto sbagliato è caldo è giuchissimo porca puttana guardate che dobbiamo soffrire le cazzate che abbiamo fatto guardate eh cazzo di ridi pure rotto che vandoschi oh oh no tutto è il portiere ma è finita che è? no non tutto è il portiere onesto guardate la sofferenza che dobbiamo dovuto che dobbiamo dovuto subire subire cazzo mamma mia è andata ho la testa pelata ma speriamo che c'è la conta questa almeno è vero comunque ragazzi dai così noi ci becchiamo al prossimo video e bella ciao